Mobilitazione generale contro la chiusura della raffineria Eni e la mancata riconversione si terrà martedì 26 gennaio. Un corteo partirà alle 9.30 dall'ospedale Vittorio Emanuele e attraverserà Corso Salvador Aldizio fino a giungere in piazza di fronte al municipio. E quanto deciso dal Consiglio Comunale di Gela saranno coinvolte tutte le categorie produttive e sociali della città. La città è stanca di aspettare risposte, di aspettare un futuro, di aspettare lo sviluppo e la riconversione dell'industria di questa città. I problemi apparentemente potrebbero essere solamente quelli che riguardano gli ex lavoratori dell'indotto, i lavoratori che sono al termine della cassa integrazione, ma non è così. Perché la problematica ormai riguarda tutti i cittadini gelesi che ormai non ce la fanno più di aspettare, di vedere i loro amici, i loro parenti che sono in crisi. Conosciamo ognuno di noi persone che già si sono allontanate dalla città per andare a cercare lavoro fuori, ma non per cercare la fortuna, ma solamente per mantenere le loro famiglie che sono rimaste qua. Tra l'altro anche alcuni sappiamo lasciando le proprie case e andando a stare di nuovo dei genitori perché non potevano più mantenere la casa in affitto o pagare le bollette. La problematica è importante. Tutti in piazza martedì, ma non 1.000, 2.000, 3.000 persone che sono le prime ad essere gradite. Ma dobbiamo essere 10.000, 20.000, 30.000 perché solamente se è numerosi e se la città intera, quindi tutte mamme, figli, ragazzi, giovani, anziani, tutti coloro che possono fare una marcia di un'ora, io li prego di venire alle 9.30 davanti all'ospedale per fare questa marcia che non è lunga ma più che altro è significativa fino al municipio. Il giorno dopo la mobilitazione generale, dunque mercoledì, i consiglieri si regheranno a Roma per far sentire la presenza di Gela all'incontro che si trarrà al Ministero del Lavoro, convocato per discutere sulla proroga degli ammortizzatori sociali. Mercoledì pomeriggio ci sarà un altro tavolo al Mise per parlare della cassa integrazione straordinaria, è pronta quindi a supportare non solo i cittadini ma questa volta l'amministrazione direttamente, quindi il sindaco e il vice sindaco che sono a Roma affinché loro possono dire anche all'interno del tavolo fuori abbiamo il consiglio comunale rappresentativo di tutti i 74.000 abitanti della nostra città affinché il governo nazionale e l'ENI diano risposta a questa città.